E' da poco cominciata la nuova stagione di Ranked e lo so, volete fare tutti un sacco di punti. Sicuramente tutti quelli che hanno già giocato una Ranked hanno il boost di fine stagione, che dura fino alla lega che avete raggiunto nella stagione precedente. Ma potete sommarlo a qualcosa di ancora più potente. Come prima cosa fate entrare in lobby con voi due compagni con una lega il più alta possibile. A tal proposito vi ricordo che se siete bronzo, argento o oro potete giocare al massimo con un oro, se siete diamante potete giocare con chi volete fondamentalmente. Perché il compagno più alto di lega guiderà il matchmaking e quindi troverete persone contro all'incirca con quella stessa lega. Più è alta la lega degli avversari, più punti farete in caso di vittoria. Ma la cosa fantastica è che se l'avversario è abbastanza alto rispetto a voi, anche in caso di sconfitta guadagnerete dei punti. Come vedete qua sotto, dopo una sconfitta ho fatto comunque 12 punti. Ah, e ovviamente se vuoi altri tips sul mondo di Brawl Stars, iscriviti il tasto con la fianco.